Ciao, oggi vedremo insieme la maglia dei Golden State Warriors per la stagione 21 e 22 in edizione Authentic. Ogni squadra ha un'identità iconica, colori che riecheggiano per intere generazioni di tifosi. La maglia Golden State Warriors Diamond Icon Edition celebra la stagione numero 75 del campionato con logo ispirati al diamante e targhetta aggiornata. La maglietta Nike Icon Authentic del Golden State Warriors è identica a quella indossata in campo da Stephen Curry incluso il nome e il numero del giocatore. La targhetta cucita e aggiornata, lo swoosh ispirato al diamante e il logo NBA sono dettagli speciali per commemorare il 75esimo anniversario dell'NBA. Questo prodotto è realizzato con fibre di poliestere riciclate al 100%. Veramente niente male, nella mia classifica questa prende 4 stelle, una delle più belle dell'NBA, tra l'altro della squadra campione NBA della stagione appena conclusa. Ad un costo veramente molto basso, che trovate qua sopra, ed è fatta veramente molto bene. Era la prima maglia in versioni autentiche che provavo e devo dire che è stata una fantastica sorpresa, con tutte le cuciture corrette, con i colori corretti, veramente veramente bella da provare. Vi ricordo che in descrizione trovate tutti qui in basso, trovate tutti i riferimenti per comprare la maglia e diversi sconti che potrete utilizzare. Tra l'altro anche la spedizione è stata veramente molto veloce, è arrivata in 20 giorni dall'ordine alla consegna. Adesso prima di lasciarvi, come al solito vi chiedo se è possibile di lasciarci un like e di iscrivervi al canale per essere aggiornati su prossime recensioni. Per oggi è tutto, ciao! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia media della versione autentica.